Disorganizzazione nell'ULS 7 pedemontana del direttore generale Carlo Bramezza, tempi d'attesa infiniti per chi soffre e spostamenti estenuanti. Continuano a piovere segnalazioni da parte di cittadini e utenti, storie che raccontano la voce di chi soffre e di chi dice basta a una situazione diventata, a detta di chi la vive sulla propria pelle, insostenibile. La vicenda della signora Silvana, 69 anni, è quella di tanti altri pazienti del San Bassiano. In una mail ci segnala che sta aspettando da mesi un'ecografia all'ospedale. Non avendo avuto risposta, la signora ha sollecitato il San Bassiano non ottenendo nessuna data e nessuna prenotazione. Un ritardo che in tantissimi altri casi ha spinto gli utenti a rivolgersi a strutture private, ma la signora Silvana, come leggiamo nella sua mail, non ci sta. Per il principio non vorrei andare nel privato perché dopo aver pagato per tanti anni pretendo di avere un'ecografia. È una vergogna. E queste parole vanno a rafforzare il coro sempre più forte di chi chiede risposte alle istituzioni e alla politica. Così come restano in attesa di risposte la richiesta di dimissioni del direttore dell'Ulsset, Carlo Bramezza o la sua rimozione avanzata dai consiglieri e dagli amministratori del Bassanese che hanno coinvolto direttamente anche i sindaci. In primis Elena Pavan, prima cittadina di Bassano e presidente del distretto bassanese dei sindaci dell'Ulsset, a cui è arrivata una richiesta formale per l'organizzazione di un incontro sullo stato di salute dell'ospedale cittadino e dell'Ulsset in generale.